Giorgio Gaber 22 e 33 era l'obeso da credo il suo ultimo album prima della morte, io non mi sento italiano. Allora le 22 e 33 e allora siamo pronti ad andare a salutare Mario Ciancarella che è collegato con noi, buonanotte Mario. Buonanotte a voi. Grazie, grazie di essere qui con noi, ci tenevamo molto proprio per l'argomento e anche per quello che ti è accaduto e dopo tanti anni si è cominciato a mettere anche una parola di giustizia ancora seppur molto parziale ovviamente. Allora in sede di presentazione abbiamo detto tu eri un ex capitano pilota dell'aeronautica militare, nel 1983 eri stato soggetto a un provvedimento di radiazione e adesso c'è la certezza che la firma della Luka Presidente della Repubblica, Pertini, era falsa. Vogliamo partire da questo e da questa sentenza del Tribunale? Certo, nulla, io avevo conosciuto personalmente il Presidente Pertini nel 1979, ero stato convocato in Quirinale dove mi aveva ricevuto insieme ai due colleghi e con il Presidente avevamo stabilito un patto fra gentiluomini, come lo dicevo lui e cioè che lui non sarebbe mai intervenuto a nostro favore collendo il rischio di creare dei problemi istituzionali per le persecuzioni certe, diceva lui, che avremmo dovuto subire e noi non avremmo mai dovuto ricorrere a lui. Lui diceva solo sulla giustizia e il diritto dovrete puntare per salvarvi e ricordatevi che in un paese in cui regime si fosse tramutato democratico in autoritario, il posto dei patrioti e il banco degli imputati e il carcere e un esilio, ci ricordava le sue vicende giovanili a riguardo. Quindi ero certo dentro di me che non avrebbe mai firmato quel decreto, comunque sia lo richiedevo incessantemente e mi fu dato solo nel 1993-94, cioè dopo la morte di Pertini e appena ne ricevetti copia mi fu assolutamente evidente l'alterazione della firma del Presidente. Ho impiegato poi altri 17 anni a trovare un avvocato che avesse voglia di curare questa vicenda sul piano giudiziario, fino a trovare l'avvocato Casella di Lucca, che ha sposato interamente la mia causa e si è messo al lavoro riuscendo ad ottenere la sentenza dal Tribunale di Firenze, a seguito di due perizie, la prima di parte, cioè da una nostra perita, e la seconda da una perita nominata dal Tribunale stesso. Entrambe le perizie concludono che la firma non apparteneva al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Il Ministero non si è costituito in questo giudizio che è durato sette anni e non ha impugnato la sentenza. Tuttavia ora ci sono strane resistenze e molti silenzi per il completamento della vicenda dopo l'accertamento della firma falsa al Presidente. Perché tu ora dovresti essere reintegrato. Ma vedi, la reintegra, il diritto parla di restituzio in integrum, cioè restituito nell'interezza, perché la reintegrazione avviene per chi è stato effettivamente esautorato da qualche cosa, che poi viene reintegrato. Ma in questo caso l'atto è nullo e non è mai esistito di fatto. E quindi si deve parlare solo di una restituzione in integrum. Cioè io dovrei ricevere di nuovo il grado e la piena restituzione patrimoniale e amministrativa che mi compete. Ecco, prima di capire come i quali potrebbero essere state le ragioni, anche facilmente intuibili, del perché insomma ti hanno messo fuori dall'aeronautica, tu di che cosa ti occupavi e proprio nei momenti della strage che cosa, in quale servizio hai impegnato? Dunque, io ero stato convocato dal Presidente Pertini perché in quegli anni noi ci battevamo con il Movimento Democratico dei Militari per la riforma costituzionale delle forze armate. Ed eravamo riusciti nel 1978 a portare all'approvazione del Parlamento la legge di riforma dei principi della disciplina militare. Una legge che non esito a definire rivoluzionaria in quanto intanto prevedeva le prime rappresentanze elettive interne per i militari di ogni ordine grado. E in più sanciva all'articolo 4 non solo il diritto di sindacato sulla legittimità degli ordini, ma anche il dovere della disobbedienza in caso di ordini contrari alla legge e alle istituzioni democratiche. E questo noi lo avevamo pensato e inserito in una maniera assolutamente impensabile direi ricordando quanto era avvenuto a Norimberga e cioè che non era stato riconosciuto la legittimità dei militari tedeschi di cercare di non rispondere delle proprie responsabilità dicendo di aver obbedito a degli ordini. Norimberga è stato stabilito il principio che non si viene legittimati dall'obbedienza per via della subordinazione a un superiore, ma si è comunque responsabili della legittimità di quanto si compie. e questo era un qualche cosa di veramente dirompente per una cultura militare di tipo pretoriano che non aveva nulla a che vedere con la cultura militare che noi cercavamo di portare avanti sulla base dei principi della resistenza che hanno dato vita alla Costituzione. e lì ci furono i primi grandi scontri con i nostri superiori, ma loro erano convinti che poi al momento opportuno, cioè al momento delle elezioni, io sarei stato isolato dalla mia classe, sono quella degli ufficiali, che ne erano a loro giudizio marginati. e invece avvenne che nel 1980, a marzo, quando ci furono le prime elezioni, io fui votato dalla stragrande maggioranza degli ufficiali. E questo fece tramutare le paure in timori profondi, timori che si potesse diffondere il terribile tarlo della democrazia. E tenete conto che nel 2000, adesso facendo un salto così, ma nel 2000 alla prima apertura di un anno giudiziario da parte della magistratura militare che aveva ottenuto un riconoscimento particolare dal governo L'Alema, il procuratore generale del militare ebbe a scrivere esattamente queste parole. Si ricorda che delle forze armate si potesse dire che fossero una beata insula incontaminata dal contagio costituzionale. Questo nel 2000, noi eravamo nel 1980, quindi pensate un po' quale fosse il grande timore della diffusione di questo contagio costituzionale. Poi nel 1980, sempre a giugno, accadde la vicenda di Rustica e io fui quasi immediatamente coinvolto dal maresciallo Mario Alberto Vettori con una telefonata in cui mi diceva il comandante siamo stati noi. Io lì per lì non gli avevo creduto, devo essere sincero, e lo pregai semplicemente di calmarsi perché lui era molto agitato, molto timoroso nella sua sopravvivenza e di risentirci quando fosse stato un attimino più calmo per incontrarci e metterci in accordo. Lui mi richiamò dopo il ritrovamento del MIG sulla SILA e mi disse il comandante dopo questa puttanata del MIG ti do alcuni elementi sui quali potrai cercare. A quel punto iniziò la doverosa ricerca in funzione di quelle confidenze di quale potesse essere la verità su Rustica e fu a quel punto che si scatenò la repressione più violenta. Avevamo iniziato Sandro Marcucci ed io, Sandro Marcucci era il colonnello che era stato ricevuto insieme a me al Sergente Maggiore Lino Totalo dal Presidente Pertini. Avevamo iniziato a cercare di fare dei collegamenti, di avere delle informazioni e naturalmente questo in qualche maniera venne risaputo e lì scoppiò il terrore. Noi avevamo iniziato ad agosto, il 29 settembre io fui arrestato con quattro imputazioni di insubordinazione che erano costruite in una maniera assolutamente assurda ma che servirono per potermi sospendere dall'impiego e quindi allontanarmi dall'esercizio concreto delle mie possibilità. E niente, nell'82 ebbe il primo processo dal quale fui assolto per insufficienza di prove e per altri motivi molto alchemici direi. furono inventate delle formulazioni di assoluzione abbastanza impropria che comunque avrebbero prefigurato la instaurazione di una commissione di disciplina il cui unico scopo era quello di proporre al Presidente della Repubblica il decreto di radiazione per la non degnità di rivestire il grado. A quel punto deve essersi inceppato qualcosa il Presidente potrebbe aver rifiutato potrebbe aver fatto sapere che non avrebbe mai firmato quel decreto sta di fatto che mi venne comunicato nel 1983 che io ero stato radiato dalle forze armate perché indegno di rivestire il grado con un decreto ministeriale in via di perfezionamento e a nulla valse il fatto che io ponessi di aver diritto un decreto del Presidente della Repubblica si dia di seguito tu cura a questa espulsione dalle forze armate la mia collocazione è in congedo in congedo senza una lira e senza una pensione senza nulla e per nove anni ho in vano richiesto il decreto del Presidente io temo che il grande terrore fosse che io rimanendo in servizio avrei potuto ottenere dei riscontri più concreti delle vere responsabilità su un stile comunque sia non abbiamo demorso e quindi siamo andati avanti nonostante tutto nonostante che anche nell'81 venisse carcerato Sandro Marcucci anche lui con una imputazione assolutamente fasuliva di truffa allo Stato poi smontata completamente in corte d'appello e andiamo avanti andiamo avanti per rispetto della nostra dignità della dignità dei nostri figli che avevano diritto ad avere la verità sulla nostra storia e ad un certo punto abbiamo avuto davanti uno scenario terribile però molto molto attendibile e abbiamo cercato in tutte le maniere di trovare le formule di accredito per regarci davanti al giudice priore e potergliene rappresentare Sandro Marcucci ebbe due idee la prima era quella di costituire un'associazione di ex militari che organizzasse un convegno in cui il convegno si doveva chiamare dare voce al silenzio degli innocenti in cui invitare i familiari delle vittime e chiedere loro la possibilità che l'associazione si costituisse parte civile nel processo di ustica né più né meno di come le associazioni femministe chiedono alle vittime di violenza di potersi costituire parte civile nei processi appunto di violenza contro le donne e a questo punto però avvenne un'altra un'altra circostanza cioè si formò il movimento politico La Rete e eravamo vicini alle elezioni del 92 e Sandro Marcucci decise di propormi come candidato al Parlamento italiano dicendo io ti porto in Parlamento poi ti faccio da porta borse e poi andiamo noi ad aprire i cassetti sta di fatto che tre giorni prima della presentazione delle liste elettorali lui venne ucciso in un in un incidente aereo come è stato definito che io definisco comunque attentato nelle sulle montagne e sulle alpe quale dopo 20 anni grazie all'associazione antimafia di Tatria siamo riusciti a far riaprire quella vicenda che era stata inizialmente chiusa come responsabilità di pilotaggio di Sandro Marcucci e che invece è stata riaperta con ipotesi di omicidio e niente pochi giorni dopo la morte di Sandro uscì il primo articolo su avvenimenti che riassumeva un po' tutta questa vicenda è che mi mi diede modo praticamente di essere chiamato convocato dal giudice priore il giudice priore mi ha ascoltato quattro volte consecutivamente nel giro di un anno e mezzo e alla fine della inchiesta ho avuto la triste sorpresa di essere classificato fra gli inconsapevoli apportatori di elementi inquinanti una cosa che io gli ho contestato direttamente dicendogli che e ricordandogli tutti i passaggi dei nostri confronti dicendogli che quella definizione consentiva a lui di non imputarmi di diffamazione o quant'altro ma anche gli risparmiava di doversi confrontare in aula con gli aspetti che io gli avevo sottoposto e che secondo me non erano stati accuratamente indagati per cui rimaneva in piedi e rimane ancora in piedi lo scenario terribile che si era disegnato davanti ai nostri occhi di una responsabilità diretta volontaria e premeditata dalle nostre forze armate contro un aereo civile per attribuirne la responsabilità a un aereo in mig di Gheddafi e poter da quel momento compiere una destabilizzazione del regime del colonnello libido questa è una situazione che ancora oggi potrebbe essere rivisitata dai magistrati se solo non volessero ecco poi tutte anche le morti purtroppo collaterali a questa strage come è accaduto anche in altri misteri italiani dà anche il come dire il segno di quale potere oscuro ci possa essere appunto dietro accetto il maresciato Vettori l'uomo che mi aveva fatto le prime confidenze nell'87 quando decidemmo di tornare ad incontrarlo perché ripartivano da lì le nostre indagini noi lo decidemmo nella mia libreria il 18 di marzo dell'87 perché lo ricordo perché era il giorno del mio compleanno e Sandro era venuto con la scusa dei farmigli auguri però con la scusa dei farmigli auguri aveva insistito fino in fondo perché progettassimo il nostro piano di ricerca e avevamo parlato dell'incontro con Dettori Dettori l'avremmo dovuto incontrare io Sandro da nì a poco però non ce ne diedero il tempo perché Dettori fu trovato impiccato il 31 marzo dell'87 in forme e in situazioni talmente amigue che l'associazione antimafia ritatea a nome e per conto della figlia di Mario Dettori hanno presentato un esposto a Grosseto per la riapertura delle laggine sulla sua morte ma poi ce ne sono tante altre c'è il maresciallo Uglisi che viene trovato impiccato ad un albero più basso della sua statura con i piedi poggiati per terra e le ginocchia piegate addirittura e con un ematoma dietro la testa che viene giustificato con una veramente con una versione assurda e cioè che lui consapevole del fatto che Dettori fosse più basso della sua altezza si era accoccolato sul ramo si era lasciato andare giù aveva sbattuto la testa sul ramo era svenuto e quindi era rimasto impiccato benché con i piedi per terra purtroppo questo ci dice molto di quali e quanti poteri si possono agitare dietro queste vicende ecco prima di questa vicenda dell'esistenza di questi poteri non so se chiamarli servizi deviati o in qualunque altra forma assuma avevi mai avuto diciamo il sentore dell'esistenza mentre eri in servizio si certo a partire dal 1975 nel 1975 io ho fatto un tour di un mese negli Stati Uniti e in questo mese sono stato tampinato in ogni momento da uno scout che alla fine mi fece la proposta di offrirmi ai servizi statunitensi era personaggio strano era un nero americano c'erano tutte le condizioni per per catturare anche il il mio come posso dire il mio immaginario personale della dell'evoluzione dei neri americani della liberazione della una grande frontiera e io a un certo punto fui preso e portato a casa sua alla fine dello scouting come disse lui e mi venne fatta la proposta in un momento brutale avevano in mano i miei lavori in accademia i miei temi sull'arte del comando figurate e quindi capì che ci sono dei referenti italiani che fornivano questi dati ebbene io quando dopo 25 anni ho detto queste cose davanti alla commissione stragi mi sono sentito dire da un onorevole della valle beato lei che ha resistito quando descrivevo anche le modalità molto poco simpatiche cioè il fatto di essere stato portato in un bar di aver tentato di ubriacarmi prima di offrirmi delle donnine dopo e un onorevole italiano un parlamentare italiano che mi ha detto ed è avverbale beato lei che ha resistito quasi che si potesse giustificare sul problema della carne debole il tradimento della propria nazione e da quel momento avevo cominciato a tenere gli occhi ben vigili su tutto il sistema italiano ed ho visto che era un sistema effettivamente asservito a dei poteri altri dicevi prima che l'abbattimento dell'Itavia era stato premeditato quindi qualcosa quindi di preparato da tempo probabilmente certo almeno da due anni si chiama in gergo l'attacco alla fattoria l'attacco alla fattoria consiste in questo lo scenario è questo c'è un capognano che ci rompe le scatole perché ha dei possedimenti d'oro nei suoi territori non ce li vuole cedere perché è uno che cerca di essere troppo indipendente ce ne vogliamo liberare però siamo un popolo democratico non possiamo fare un'azione unilaterale allora il giorno che saremo riusciti a tirarlo nei paraggi e avremo creato una situazione di tensione prendiamo quattro dei nostri li travestiamo da indiani e li mandiamo a scotennare quattro bianchi dei nostri di quella fattoria sperduta che non conta nulla nell'ambito della politica internazionale e li faremo ritrovare scotennati con l'arma degli indiani questo ci darà la motivazione per liberarci di lui ma questo è un vecchio adagio che da sempre nel mondo militare ha funzionato cioè il cercare la causa scatenante di possibili ritorzioni di guerra noi non siamo abituati a sapere di come effettivamente andò lo scoppio della seconda guerra mondiale perché ci dicono solo la Germania invase la Polonia ma anche Hitler ebbe necessità di un casus belli per scatenare quell'attacco la notte prima fece attaccare una postazione tedesca da soldati tedeschi travestiti da soldati polacchi e li fece uccidere tutti la mattina dopo andò la radio e disse voi tutti sapete quanto io tenga la pace ma di fronte a questa aggressione non potevano reagire e ha scatenato la seconda guerra mondiale e è questo il punto drammatico cioè noi non è che ce lo siamo inventati dalla mattina alla sera un aspetto di questo genere ma lo abbiamo ricostruito leggendo i minuti passaggi partendo da quegli indizi che c'erano stati dati dal maresciallo Dettori e quando leggi che il capo di stato maggiore dell'aeronautica abbia ammesso davanti al parlamento davanti alla commissione stragi che il mig non volasse nel giorno che l'aeronautica aveva sostenuto fino a quel momento cioè 15 anni e nessun parlamentare chiede scusi ma che cosa significa che lei ci viene a dire queste cose 15 anni dopo e lui dice perché vedete avevamo fra le mani una fonte di informazione come quella di un mig e stavamo intavolando un tavolo di trattativa diplomatica per vendere queste informazioni e nessuno gli ha chiesto ma voi eravate autorizzati del governo o vi siete assolutamente auto ritenuti legittimati a fare questa trattativa tenendola all'oscuro il Parlamento e nessuno gli ha chiesto ma quanto è durata questa trattativa visto che ce lo vede a dire oggi dopo 15 anni e lo stesso capo di stato maggiore in quella seduta afferma vedete dovete capirci per noi una grande parte di questo Parlamento rappresentava il nemico e quindi diceva che la sola presenza del PC giustificava la menzogna dei militari al Parlamento italiano non c'è stato nessuno che si sia risentito ed è una cosa veramente vergognosa Abbiamo intervistato credo un paio di anni fa il giornalista Gianni Lannes che ha fatto delle sue inchieste su Ustica e ci aveva parlato anche del del fatto che potrebbero esserci stati dei sopravvissuti ci parlava di un ritardo nei soccorsi e quindi di possibili altri testimoni eliminati tu hai diciamo avuto informazioni su questo o è da escludere che dopo l'abbattimento possano esserci state delle persone ancora vive No io personalmente tendo ad escluderlo per vari motivi io l'ho scritto al giornalista Torrealta che fece anche un servizio televisivo su questo aspetto qui nel senso che per poter essere sopravvissuti dei passeggeri sarebbe stato necessario che l'aereo ammarasse più che esplodere ma questo non è possibile perché non trovare scontro nelle modalità stesse nella tipologia dell'aereo esploso con un effetto bomba come scoppia un palloncino colpito da uno spillo che esplode con un effetto bomba perché è la tensione interna che lo fa esplodere questo significa e questo giustificava il discorso che mi fece il maresciallo dettore quando mi disse devi cercare i missili attestata inerte perché i missili attestati inerte sono missili che esplodono nelle vicinanze del bersaglio e sparano via una serie di sferule metalliche che costituiscono il suo nucleo centrale che è stato sostituito a quello bellico nella testata classica bellica carica di esplosivo ma questa serie di sferule colpendo un aeroplano pressurizzato a 26 mila piedi lo fa esplodere esattamente come un palloncino e il dirice priore ha individuato nel bordo d'attacco dall'area destro del velicolo alcune di queste sferle e ha chiesto due o tre perizie su di esse nessun perito se l'è sentita di dire da dove provenissero di quale natura fossero e come mai fossero in quella posizione in più l'aereo non avrebbe potuto ammarare perché se avesse ammarato vorrebbe dire che aveva ancora dell'energia elettrica a bordo perché tutti gli apparati del velivolo funzionano solo se c'è dell'energia elettrica a bordo altrimenti l'aeroplano diventa un ferro da spiro che cade senza nessuna possibilità e quando c'è un minimo di energia a bordo la radio è l'ultima cosa che muore e ci sarebbero voluti 8-9 minuti per ammarare e in 8-9 minuti certamente sarebbe stato lanciato un messaggio di allerta e invece c'è dopo il guà del vice comandante del secondo pilota c'è solo il silenzio vista la subalternità che ha sempre avuto l'Italia nello scenario che tu ci hai delineato che ruolo può aver avuto ad esempio l'America l'America ha avuto il ruolo a nostro avviso della costruzione dell'idea stessa di Ustica che ha dovuto poi delegare all'Italia per la sua esecuzione in forza di quanto avveniva al proprio interno negli Stati Uniti vale a dire che Carter era dovuto intervenire con una direttiva che impediva alla CIA di svolgere qualsiasi tipo di azione destabilizzazione fuori dai propri confini a seguito delle rivelazioni che erano avvenute in quegli anni sull'intervento della CIA in Cile e quindi Carter aveva inibito la CIA da ogni attività che non fosse direttamente ed espressamente comandata dal governo statunitense il 25 aprile di quell'anno il presidente Carter era stato già imbrigliato in una rete terribile nel senso che era stato convinto ad avallare il tentativo di liberazione degli ostaggi americani nell'ambasciata di Teheran ed era stata una missione fallimentare dove gli americani avevano perso un C-130 un elicottero otto uomini e alle due di notte il presidente era stato costretto ad andare in televisione ad ammettere di aver dato lui l'ok alla missione che purtroppo era fallita pochi però sanno chi fosse il capitano che comandava con la Delta Force ed era il capitano North che sarebbe stato ritrovato pochi anni dopo al servizio del presidente Reagan nello scandalo Iran e quindi c'è anche da pensare che quella missione fu fatta fallire artificiosamente proprio per mettere in crisi il presidente Carter che apparentemente ad aprile aveva ancora un margine enorme di vantaggio sul competitor Reagan ma che poi sarebbe stato sconfitto a novembre per una serie di errori di politica interna e destra tra i quali anche quello del tentativo di liberazione e quindi l'idea americana veniva delegata alle forze armate italiane ma alle forze armate italiane tramite della politica italiana perché ricordiamoci che non esistono forze armate autocefale hanno sempre comunque sia siano esse deviate o meno hanno sempre bisogno di un referente politico a cui dovere obbedienza non so se vi ricordate l'omino di piazza Tienammen che sfidava il carroarmato il pilota di quel carroarmato non era un benpensante che voleva rispettare il popolo era solo uno che non aveva direttive la mattina dopo quando le direttive politiche arrivarono piazza Tienammen venne chiusa e ci fu uno stermine e quindi c'è stato un input italiano e anche lì vanno seguite e ricostruite tutti i tasselli di quella politica di quegli anni perché il coinvolgimento diretto quanto consapevole di due parlamentari come il presidente Gossiga allora il primo ministro di questo paese e l'onorevole Enelio Lagorio allora ministro per la difesa non possono essere sminuite o sottratte da questo scenario chi sapeva secondo te appunto per allacciarmi a queste tue ultime considerazioni chi sapeva questa verità anche a livello politico il presidente Gossiga il ministro Lagorio e almeno 15 persone nei livelli militari di fare il calcolo che avevamo fatto oggi sono passati più di 30 anni secondo te perché non cioè non si può fare un passo in avanti e così ancora scomoda questa storia ma questo dipende dalla volontà politica nel senso che non c'è ancora evidentemente una capacità politica di determinare le condizioni per una pacificazione che sia fondata sulla verità però in questo senso Mandela ha dato uno degli esempi più luminosi di che cosa possa significare la pacificazione in cambio di verità lui ha costretto tutti gli aguzzini del precedente regime a dire per radio e per televisione per ore i minimi particolari delle sedizie che inducevano a loro torturati ma il cambio era tutta la verità in cambio della riconciliazione e questo ha permesso al Sudafrica di non diventare una piscina di sangue dopo la fine dell'apartheid ma è un percorso che va iniziato con delle personalità politiche di spicco e non mi sembra che nel nostro paese ci sia ancora la disponibilità ad affrontare in fondo questi problemi che ci riguardano e che non riguardano solo Ustica ma riguardano le tante vicende oscure di questo paese le trame più vergognose e le vicende stragiste più drammatiche che abbiamo dovuto vivere hai mai avuto modo di parlare con qualche familiare di Ustica in questi anni come hanno reagito di fronte a questa tua verità ma alcuni con grande affetto ed empatia voglio ricordare per tutti i superchi il papà della della bimba di pochi anni nove anni che era a bordo di quell'aeroplano il quale mi volle chiamare anche ad un convegno suo a Trento perché ripetesse pubblicamente le cose che gli avevo detto in privato e cosa che feci chiaramente con una massima disponibilità altri invece come la Bonfetti o come i familiari di Pinocchio mi mi guardano con sospetto prima di tutto perché io ero un ufficiale radiato e questo è servito molto per discreditare negli anni ogni intervento di Mario Ciancarello e poi perché venivo ad intercettare i convincimenti che erano stati sfilati in loro in anni di lavorio alle corte alle costone ma purtroppo io ho sempre riconosciuto ai familiari la libertà di un diritto prevalente lo voglio chiamare il diritto del sangue e quindi qualsiasi familiare mi potrebbe dire le cose peggiori o a credire in maniera più violenta io non reagirei assolutamente io reagisco semplicemente al potere e alla sua voglia di dominare in maniera irresponsabile tornando più tecnicamente a cosa può essere accaduto quella notte da che cosa da qual non so se avete avuto modo di fare ipotesi no magari quale tipo di mezzo militare o arma ha colpito l'aereo è un missile attestato inerte sparato da un F-104 italiano di questi missili attestati inerte Priore ha fatto una ricerca e ha scoperto che erano stati acquistati due lotti da sei missili ciascuno di uno di quei lotti si sa esattamente la storia di ogni singolo missile la collocazione dove sono finiti eccetera dell'altro lotto di sei missili nessuno è riuscito mai a dirgli di un solo missile su sei quale fosse la destinazione quale fosse stato l'uso l'impiego dove fossero finiti sono spariti sei missili e questo significa che se sparisce un missile prima o dopo lo si riesce ad intercettare ma se spariscono sei missili è chiaro che si vuole solo creare dell'insabbiamento e il missile fu sparato da un velivolo sotto diretta determinazione del guida caccia e il guida caccia in quel caso al 99% veniva eseguito da un velivolo americano in volo su sull'isola della mandalena da che distanza è stato sparato secondo te da 14 15 miglia io adesso farei ascoltare perché vorrei sapere un tuo giudizio sulla famosa telefonata anonima che arrivò durante una puntata di telefono giallo di di corrado augas ascoltiamo questo minuto e poi mi dici che cosa ne pensi sentiamo un attimo mi sente l'assento piano ma riuscire a arrivare in trasmissione io ero una viera in servizio a marzala la sera dell'evento della caduta del 19 purtroppo non mi vogliono passare la telefonata perché gli elementi che comunico sono molto pesanti ma in modo noi abbiamo esaminato le tracce di 10 minuti di trasmissione di cui parlate di registrazione che non sono stati visti non è vero perché noi li abbiamo visti perfettamente soltanto che il giorno il giorno dopo il Marcello responsabile del servizio ci disse che praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito di trasmissione rivedendo la trasmissione ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità anonimamente perché cado nel nulla però la verità è questa ci fu ordinato di starci zitti e la saluto e saluto anche l'onorevole tutti quelli che hanno cercato di dire la verità perché non voglio non voglio fare così gentile amico non attacchi ha attaccato il terzo allora arriva questa telefonata c'era anche amato in studio ci hanno detto insomma di star e zitti tu conosci questa persona e che cosa ne pensi? no io questa persona non la conosco so la capisco ma non la posso assolutamente giustificare nel senso che capisco il clima perché l'ho conosciuto anche attraverso altri colleghi perché l'ordine del silenzio era assolutamente vasto capillare e addirittura direi direi quasi minaccioso però non non posso accettare questo silenzio perché un militare quando giura giura fedeltà alla Costituzione anche a costo della vita e non si può dire non voglio rogne non si può dire tengo famiglia quando si decide di voler dire qualche cosa bisogna dirla fino in fondo costi quello che costi queste poche cose che ha detto comunque sono assolutamente in linea con quello che ci hai detto tu stasera no? assolutamente assolutamente è anche strano che questa telefonata sia andata in onda se vogliamo no? perché non si è legato quel clima no? esatto poi bisogna bisogna capire perché poi a volte succede questo che nei servizi c'è questa maledetta maledetto modo di agire per cui a volte si fanno delle cose che sembrano di una certa portata ma per arrivare ad altri ad altri obiettivi per cui voglio dire se era una telefonata sincera è comprensibile ma non è condivisibile se non era una telefonata sincera bisognerebbe capire perché l'ha fatta chi gli ha consentito di andare in onda da chi cioè io non ho mai saputo per esempio da chi venissero filtrate le telefonate e da chi fosse stata autorizzata era un bel discorso da vedere anche perché insomma andai in prima serata su Gai 3 no? poi no? infatti sarebbe stato estremamente interessante sapere chi è che l'aveva autorizzato guardate in questi giorni con i fatti della valanga quante polemiche stanno venendo fuori sulla telefonata alle prefetture o robe di questo genere chi è che aveva autorizzato chi è che aveva comunicato su Ustica non è mai stato chiesto nulla di questo genere volevo chiederti sul film il muro di gomma cosa ne pensi? allora il film il muro di gomma è stato un momento socialmente importantissimo perché ha risvegliato una coscienza che andava assopendosi ma ha avuto due grossi limiti quello uno di rendersi funzionale al depistaggio vero e proprio nel senso che certamente senza nessuna volontà di purgatori o degli sceneggiatori i quali però sono stati pilotati verso degli accorgimenti tecnici che hanno consentito all'arma all'associazione arma aeronautica di chiedere il sequestro del film quindi battage pubblicitario l'arma aeronautica chiede il sequestro del film eccetera dopodichè il film viene dissequestrato dissequestrato il film eccetera ma il film viene dissequestrato con una motivazione precisa perché l'arma aeronautica illustrata in quel film non rappresenta in maniera assoluta l'arma aeronautica reale infatti le stellette delle divise sono assolutamente diverse dalle stellette in uso ordinariamente il capo di stato maggiore che nel film è sempre lo stesso per tutti i dieci anni in realtà è cambiato per cinque volte e questo voleva avrebbe rappresentato se nel film fosse stato illustrato che c'era un ordine di scuderia che si perpetuava da un capo di stato maggiore all'altro piuttosto che interpretato da un unico folle personaggio e quindi c'è questa ambiguità di fondo del film che lo ha reso importantissimo a livello di coscienza sociale molto meno rilevante dal punto di vista strettamente collegato con la strage voglio dire questo è avvenuto anche in un'altra occasione cioè quando il buon purgatorio ha scritto insieme a Dario Luca Paolo Migiano il libro due passi dalla guerra qualcosa del genere e lì loro hanno costruito una fiction alternata a dei brani dei loro interventi giornalistici quindi tutta roba di assoluto rilievo ma questa fiction inizia rappresentando un presidente del consiglio che va al potere ben esattamente interpretato leggibile come la figura di Tossiga e alla fine del primo capitolo si scrive il fatto che questa sia una fiction non vi autorizza a ritenere che tutto il resto della storia non sia reale e questo è un un discorso stranissimo perché si ritrova nel libro di Casarosa sulla 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 versione del del missing dell'incidente mancato insomma in cui c'è un'altra versione molto fantasiosa dell'attraversamento di questo migo dalla Jugoslavia alla Libia e poi si dice il fatto che questo sia una fiction non vi autorizza a ritenere che il resto della storia non sia reale non sia realistica ed è la stessa identica scritta che si trova nel libro di Purgatori quindi io invitai a suo tempo anche Purgatori a rileggere i passaggi dei suoi contatti di chi potesse avergli suggerito queste queste bucce di banana sulle quali si scivola in una maniera facilissima e indicibile sarebbe bastato leggere il libro di Lutwak strategia del colpo di stato in cui Lutwak parlava del colpo di stato in Italia praticabilissimo a suo giudizio solo con qualche eliminazione di qualche capo del partito comunista di qualche sindacalista della CGL lo dice per iscritto e di inchiaro Lutwak il quale dice che bisogna spingere le vittime del colpo di stato ad accusare i reali responsabili con tale impeto e con tale accredine che siano che siano le forme migliori per riaccreditarli agli occhi internazionali quindi se non si gioca con le stesse carte e con la stessa capacità di chi queste cose le vive per professione difficilmente si potrà arrivare ad utilizzare bene gli strumenti dell'indagine giornalistica o dell'indagine democratica ti voglio chiedere le ultime due cose che esulano un po' che secondo me diciamo magari dette da te possono essere possono aprirci insomma altre riflessioni la prima siamo diversi anni dopo alcuni anni dopo a Goma c'è la scomparsa o meglio il rapimento di Davide Cervia ti chiedo secondo te che cosa potrebbe essergli successo quando di Davide Cervia io ho seguito un po' la vicenda e so per certo che lui era un esperto di tecniche di trasmissioni eccetera e sicuramente era lì che andava incentrata l'indagine per capire con quali paesi fosse in relazione e quali tasti avesse potuto toccare del vero nel senso che quando si indaga cioè quando si lavora su certi piani in certe professionalità si possono incontrare poi anche aspetti non non ricercati voglio dire uno potrebbe aver trovato la pistola fumante di Ustica senza averla neanche cercata no? e il il problema sono al solito le innagini che in questo paese a volte vengono fatte bene ma a volte vengono fatte male e la volontà politica che in questo paese è sempre mancata di poter arrivare all'approfondimento reale di queste circostanze un'altra invece questa è più una curiosità che ti chiedo da esperto proprio di aeronautica ne abbiamo parlato anche se poi ovviamente è un campo un po' come dire non se ne può parlare diciamo con l'uomo della strada perché poi magari ci dice che siamo fantasiosi ma queste cosiddette scie che vediamo in cielo e che mi pare sulla coesistenza insomma non ci siano dubbi anche sul loro essere per noi anomale ti sei chiesto tu che cosa possano essere che origine o scopo possano avere ma senti che le scie chimiche possano essere utilizzate per l'alterazione meteorologica non è un 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 ex militare democratico raggato eccetera che dice basta prendersi libri del generale mini che è uno dei generali più apprezzati in giro dal punto di vista strettamente militare per rendersi conto che si tratta di aspetti che sono studiati e attentamente dalle forze armate ma purtroppo finché continua ad esserci una politica che delega al mondo militare la ricerca in questi settori così delicati e non ha mai la capacità comunque di guidare e di tenere sotto controllo questa ricerca e quindi di dare degli stop roba di questo genere è chiaro che noi possiamo andare nelle mani del primo dottor stramore di questo mondo certo quindi è un origine comunque militare possono averla senz'altro possono averla senz'altro io ringrazio molto Mario Ciancarella per questa bella chiacchierata inquietante ovviamente ma devo dire avere no comunque personalità di questo tipo che hanno rischiato e rischiano tuttora in prima persona per questa loro battaglia di verità credo che soprattutto in Italia sia qualcosa di molto raro quindi grazie davvero Mario sono io che ringrazio voi